Bentornati alla nuova puntata della soffitta del nerd, vi avevo lasciato con un cliffhanger che manco lost dei tempi migliori Perché l'ho fatto però? Perché questo video di prime impressioni, lungi dall'essere una recensione, è stato molto complicato In parte per colpa mia, in parte per colpa di meta, fatto sta che ci è voluto molto più tempo e alla fine ho dovuto rifare e riscrivere varie volte il testo Per cercare di darvi un'impressione quanto più chiara di quello che per me fa bene e fa male il MetaQuest Pro Ma prima di tutto, guardiamoci la sigla MetaQuest Pro è l'attesissimo nuovo visore di meta, molti si aspettavano il Quest 3 e invece il Project Cambria di cui si è tanto parlato E' stato lanciato sotto il nome appunto di MetaQuest Pro Non è un sequel di MetaQuest 2, per quanto hanno molte cose in comune, ma si pone come un nuovo soggetto di mercato Che punta, stando a meta, all'enterprise, alle aziende e ai creativi che vogliono mettere un piede nel metaverso E magari cominciare a gestire il proprio lavoro in questo ambiente ibrido, un po' realtà virtuale, un po' mixed reality Già, perché la future che più distacca questo visore dai competitor è la Mixed Reality Ovvero la possibilità di vedere attraverso una telecamera a colori il reale e il virtuale sovrapporsi completamente Questo potrebbe dare modo a chi lavora in remoto di avere un ufficio con tutte le capacità tecnologiche Come ad esempio un multischermo, senza però aver bisogno realmente di questi strumenti Altra cosa fondamentale per giustificare il prezzo è la presenza di ben 16 telecamere Sparse tra il visore e i controller, anch'essi aggiornati e in grado di autolocalizzarsi senza più bisogno dei ring Questo è un enorme vantaggio quando si gioca, perché le mani, anche se non viste dal visore Possono tranquillamente trovare la loro posizione, risolvendo problemi di tracking che spesso e volentieri caratterizzavano l'esperienza con MetaQuest 2 Alcune di queste telecamere non sono subito visibili, trovandosi all'interno del visore E qui arriva la parte tecnologicamente più avanzata del MetaQuest Pro Perché questi sensori non servono a riprendere il buio all'interno del visore Quanto più le vostre espressioni facciali e addirittura il movimento degli occhi Questo dovrebbe facilitare le interazioni nel metaverso o nel posto di lavoro virtuale In quanto se ci pensate la connessione primaria quando due persone parlano è proprio lo sguardo Il movimento degli occhi però potrebbe anche migliorare la parte software In che modo? Con il Fovetic Rendering, non so se l'ho pronunciato correttamente Il Quest Pro può renderizzare solo porzioni di schermo che stiamo effettivamente guardando Di fatto abbassando la risoluzione del resto Cosa comporta? Beh, così si avrà maggiore risoluzione dove serve Diminuendo quindi il lavoro del chip, ottimizzando i consumi e magari aumentando la fedeltà grafica Tutto questo è ancora in teoria ma c'è già un gioco sullo store di meta che fa utilizzo di questa tecnica Si chiama Red Matter 2 e sembra davvero promettente Last but not least cambia tutto a livello di lenti Ci sono le Pancakes Lens che fanno venire fame ogni volta che le si pronuncia Ma che sono pazzesche a livello di luminosità e chiarezza dell'immagine Non voglio esagerare ma l'effetto lato utente è quasi giorno notte rispetto a un Quest 2 Naturalmente c'è un nuovo schermo con nuovi pixel e una gestione della luminosità Che permette di abbassarne l'intensità in più parti specifiche dello schermo In questo modo riuscendo a restituire neri più credibili e meno smonti Niente effetto OLED, scordatevi, quello senza l'OLED non si può ottenere Si tratta sempre di un LCD e si vede Però il lavoro fatto da parte di meta è molto buono La nitidezza è così palese che è possibile anche solo spostare gli occhi Ed essere ancora in grado di vedere tutto senza sfocature Niente più linee dovute alle zigrinature delle lenti E soprattutto testi super chiari, facili da leggere senza sforzo Senza contare i colori molto molto più intensi Insomma tutto bene no? Più o meno Ma andiamo a vedere nel dettaglio come si comporta questo MetaQuest Pro nel mondo reale Cioè nell'utilizzo reale Cioè se no ha controsenso Dal punto di vista costruttivo è tutto nuovo Sembra un Quest 2 magro e con un Elite Strap migliorato Il peso di oltre 700 grammi non si sente minimamente Perché questo viene bilanciato su tutta la superficie Il risultato è un visore comodo con cui probabilmente potreste stare ore senza problemi Ore che possono diventare un'ora o due ore Non di più perché questa è la durata della batteria Vi posso dire per esperienza personale che a seconda dei sensori che utilizzate La batteria ha una durata completamente diversa Se usate ad esempio i sensori degli occhi o del viso Quelli appunto che fanno il motion capture della faccia A quel punto la batteria potrebbe abbassarsi radicalmente Anche se usate il pass through Quindi se attivate la telecamera a colori per vedere l'esterno La batteria si abbassa Comunque 1-2 ore sono assicurate Nel caso invece vi mettiate a giocare in un normale gioco VR Senza tutti questi sensori accesi La durata potrebbe anche salire Secondo me un paio d'ore 2 ore e mezza sono raggiungibili con la batteria di default I controller sono un altro mondo Senza mezzi termini cambiano completamente l'esperienza VR Togliendo dalle scatole il fastidioso problema della localizzazione basata sui ring Ora loro vivono da soli Sempre connessi e sempre visibili anche se fuori dal vostro campo visivo La cosa bomba è che non dovete possedere per forza un quest pro per provarli Si possono comprare a parte e possono essere utilizzati anche con il quest 2 L'unico problema è il prezzo perché costano circa 349 euro Quindi praticamente hanno il costo dell'intero quest 2 solo per i controller Però se è una cosa che volete provare Se utilizzate giochi che hanno bisogno della velocità dell'esecuzione Ad esempio i giochi in cui ci si allena In cui si fa box uno di questi l'ho anche provato Lo potete trovare nei video anche in descrizione Allora in quel caso le cose cambiano moltissimo Nel caso farò un video a parte solo sui controller Perché secondo me meritano Meritano di essere raccontati a parte Le lenti come spiegato prima sono un salto in avanti incredibile Probabilmente saranno anche sul quest 3 Ma quello che oggi si può vedere su quest pro Non potete provarlo da nessun'altra parte Almeno per quanto riguarda i visori senza fili Lo schermo poi fa il resto con il local dimming Che permette livelli di luce variabili Prima è impossibile su quest 2 Purtroppo su questo dovete fidarvi Nel senso che è impossibile trasmettervi Quello che davvero si può vedere attraverso il visore del quest pro Quando si accende la prima volta il visore C'è un update da fare obbligatoriamente L'operazione è abbastanza semplice Ma ci sono alcuni problemi Perché se tentate di accedere ai controller ad esempio Avrete dei problemi di connessione Dopo l'update viene fatto anche uno ai controller E tutto funziona perfettamente Diciamo che la cosa poteva essere gestita meglio Essendo un prodotto pro elite Cioè di questi proprio appunto Per società di alto livello Forse si poteva lavorare meglio sull'inizio Perché all'inizio ci sono stati dei problemi Nel setup del quest pro La prima cosa che si nota Quando ci si collega allo store È che adesso c'è una sezione Completamente dedicata al quest pro E qui cominciano i primi dubbi Nel senso La sezione sembra un po' come quella di Netflix Che divide per categorie Ma poi guardando meglio Vi rendete conto che i film Sono presenti un po' dappertutto Sdoppiati Come se servisse A dare un'impressione di opulenza È un po' quello che succede anche qui Le app per quest pro La maggior parte Non sono altro che app per quest 2 Che in qualche caso Hanno fatto un aggiornamento Per funzionare anche con il pro Ma non sono così tante E molte risultano ancora limitate Il caso più eclatante È l'app di workrooms Che permette di lavorare Come dentro un ufficio virtuale Collegando il proprio computer in wifi L'esperienza è piacevole Si può vedere il mirroring Del nostro pc Su uno schermo enorme In teoria si potrebbero aggiungere altri schermi Ma ad oggi c'è solo un messaggio che dice Arriverà presto anche su Windows La cosa mi fa pensare che forse su Mac è già attivo Dovrò testarlo Ma di certo è una grande delusione Visto che questo visore dovrebbe essere pensato Proprio per chi vuole lavorarci Quindi perché non darmi questa possibilità Sempre in workrooms È possibile testare le capacità del motion capture del viso Una volta attivate tutte le autorizzazioni All'utilizzo dei sensori interni È infatti possibile vedere il nostro avatar Prendere vita e seguire Pedisseguamente le nostre espressioni Si possono muovere gli occhi Le sopracciglia Sorridere e essere arrabbiati È tutto tutto molto divertente Ma la domanda resta Quanti utenti avranno realmente accesso A un visore così costoso? La risposta forse sarà nel Quest 3 Quando questo tipo di sensori Sarà presente anche in un prodotto consumer Ma chi lo sa Di certo i sensori interni Sembrano essere uno degli elementi Che ha fatto lievitare molto Il prezzo di Quest Pro Passiamo alla Mixed Reality La parte che secondo me È più affascinante di questo visore La promessa è quella di avere un visore ibrido In grado di mostrarci la classica virtual reality Oppure mischiare i due mondi Facendoci vedere ad esempio la nostra casa E sovrapponendoci sopra il mondo virtuale Il tutto viene reso possibile Con una nuova telecamera pass-through A colori Che finalmente supera il bianco e nero del Quest 2 Mostrandoci il mondo così come lo vediamo Quasi come lo vediamo Questo è reso possibile da questa nuova telecamera Che riprende le immagini E le sovrappone a quelle spaziali Dandoci quindi un'immagine tridimensionale Con una profondità corretta Rispetto a quanto succedeva nel Quest 2 Dove peraltro il colore era completamente assente C'è un Neo però La telecamera che è a colori appunto Non è affatto perfetta È una sorta di webcam Con tutti i problemi che hanno le webcam È molto granulare dove c'è oscurità E gestisce in maniera orribile le fonti di luce Ma soprattutto non è molto definita E per non definita intendo che Quello che voi immaginate Quando vedete i video di MetaQuest Pro È che le immagini che passano attraverso la telecamera Siano quasi Quasi come quelle di una reflex O comunque di una telecamera ad alta risoluzione Non è per niente così E questo secondo me Rimane il Neo più grosso Del MetaQuest Pro Sì vabbè Ma com'è sta Mixed Reality? Malgrado i problemi soprelencati L'effetto wow è assicurato Non ho mai visto degli elementi Mixed Reality Così precisi e stabili in un ambiente misto Davvero Sembra che gli oggetti siano fisicamente presenti nel vostro spazio E questo è dovuto anche ai nuovi controller Che con dei motori aptici completamente rivisti Riescono a vibrare a livelli molto più bassi Dando in alcuni casi la sensazione del contatto vero e proprio Una sensazione che i vecchi controller non riuscivano a fare in nessun modo Le app che ho provato sono ben fatte Anche se ad esempio World con tre O viene scritto in questo modo Che è un'app molto pubblicizzata da Meta Mi sembra abbia ancora qualche problema di troppo Cioè in pratica si tratta di una mappa tridimensionale Con la quale esplorare il mondo Ma queste mappe sono poco definite Alle volte peggio della versione 3D di Google Maps Di base sembrano quelle di Flight Simulator Per fare un esempio Ma male Ho provato a vedere se si trattava di un problema di connessione Quindi che i dati non arrivavano correttamente Abbastanza velocemente per darmi un'immagine a più alta risoluzione Ma il risultato non cambia La risoluzione della mappa è tutta da rivedere a mio parere Certo rimane un'esperienza figa Perché si può praticamente mettere una mappa al centro del proprio salotto Muoverla come vogliamo Esplorarla E in alcuni casi avere anche un punto di vista in prima persona Perché questo tipo di mappe ci danno anche la possibilità di premere un pulsante E improvvisamente visionare intorno a noi Quindi cancellando in quel momento la Mixed Reality E mostrarci invece una foto a 360 gradi del luogo che abbiamo selezionato Le app di design invece secondo me funzionano molto molto bene È possibile utilizzare il passthrough E in questo modo ancorare gli oggetti nel mondo reale Questo potrebbe tornare utile se ad esempio volete ricopiare un oggetto fisico Disegnandoci sopra O volete semplicemente scarabocchiare qualcosa Per migliorarne il design O semplicemente per giocare E i giochi? Già perché Quest Pro permette di usare tutto quello che avevate già giocato su Quest 2 Senza alcun problema L'effetto che si ha è quello di aver acquistato un nuovo gioco Non sto scherzando veramente La chiarezza delle immagini dà la sensazione di avere davanti una risoluzione più alta E delle texture completamente riviste E non è così perché fino a questo momento la risoluzione dello schermo è la stessa Le texture sono le stesse C'è la possibilità che il Quest Pro possa migliorare l'estetica dei giochi e le prestazioni Perché il nuovo chip ha un'architettura completamente cambiata, diversa Che permette di alzare il cloacaggio e quindi di aumentare le prestazioni Oggi ci sono pochissimi giochi C'è solo un gioco in realtà che dice di fare questo Cioè di sfruttare appieno il nuovo chip e le nuove possibilità di Quest Pro Si chiama Red Matter 2 È un gioco, una grafica spaziale per essere un gioco che gira su chip mobile E in questo gioco gli sviluppatori hanno voluto aggiungere alcuni update Che ci mostrano come il Quest Pro potrebbe in futuro aumentare sia le texture Sia la risoluzione dei giochi ma soprattutto le prestazioni Di un videogioco Vedremo, staremo a vedere se ci saranno degli sviluppatori Che avranno voglia di investire su un visore che comunque Sembra a partire dal prezzo essere un visore di nicchia Sempre in ambito videogiochi volevo parlarvi di Demeo Una sorta di simulatore di giochi da tavola in virtual reality Questo gioco vi permette di avere davanti a voi una board Ad esempio di Dungeons & Dragons Completamente animata e perfettamente mischiata con il vostro soggiorno È un effetto incredibile E in questo caso il Quest Pro fa vedere tutte le sue potenzialità di visione mista L'effetto naturalmente si poteva ottenere anche con il Quest 2 Ma la telecamera in bianco e nero e la mancanza di una tridimensionalità Lo rende molto al di sotto dell'esperienza che potete avere con Quest Pro Ma quindi il Quest Pro è un visore per videogiocatori? Direi nì Lo è se volete spendere soldi Non lo sarebbe nei piani di meta La verità è che giocare con il Quest Pro vi farà immediatamente notare i problemi del Quest 2 Quindi se non volete prenderlo Non lo provate Altrimenti il rosigamento è d'obbligo Immaginate di vedere un film in 4K E poi tornare al vostro 1080 Ecco più o meno la differenza di esperienza visiva potrebbe essere riassunta così Quindi Giacomo Sto Meta Quest Pro merita? Non è una domanda facile E non è facile rispondere Il Meta Quest Pro come raccontato da Zuckerberg È un oggetto per aziende e professionisti E il prezzo proibitivo dice proprio questo La verità è che i programmi per usare il Quest Pro sono ancora molto pochi Mentre abbondano i giochi Il che fa un po' storcere il naso Perché di fatto chi lo prende oggi Si ritrova principalmente a giocare La Mixed Reality è molto divertente Ma l'impossibilità di mostrarla a chi è con voi Anche attraverso il casting ad esempio su una televisione Rende il tutto molto solipsistico Rimane un'esperienza molto figa E con grandi potenzialità Ma pensare di stare ore dentro il visore Con la Mixed Reality attiva È abbastanza difficile Non tanto per il comfort Che secondo me è anni luce avanti a Quest 2 Ma per la telecamera Che non ha una risoluzione sufficiente a permettervi Ad esempio di dare un occhio al vostro smartphone O leggere un testo che non sia virtuale Il Quest Pro è un visore tecnologicamente avanzato Per quanta tecnologia ha dentro E poco software disponibile per sfruttarla Lo paragonerei a un kit di sviluppo Sapete quando prima dell'uscita di una console Si manda un kit con un hardware simile alla console finale Con la quale sperimentare? Ecco, il Quest Pro è una roba del genere Un qualcosa che chi sviluppa software Per Mixed Reality o Virtual Reality Amerà alla follia Ma che potrebbe sembrare un overkill Per l'utente normale A cui piace semplicemente giocare O guardare film nel buio del suo visore Ciò non toglie che se avete la possibilità di prenderlo Non pensateci due volte Perché questa è l'esperienza Quest più avanzata Che potete avere in questo momento È vero Quest 3 arriverà il prossimo anno E potrebbe avere punti in comuni con questo visore Le lenti probabilmente Ma anche un nuovo chip Chissà Magari più potente di questo Il che ti fa dire Vabbè ma allora aspetto un anno e ciao Legittimo Ma chi lo può prendere oggi Ha a disposizione un pezzo di futuro Di quello che potrebbe diventare il mercato consumer Dei visori per realtà virtuale Quindi Alla fine la scelta Aspetta a voi E al vostro portafoglio Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata Sul MetaQuest Pro Spero di non essermi perso troppe cose per strada Sicuramente l'ho fatto Quindi Scrivetemi nei commenti Tutto quello che volete sapere Curiosità o domande Cercherò di rispondervi E magari Inserire i vostri suggerimenti Nel prossimo video di aggiornamento Grazie per essere stati qui con me Vi ricordo di premere il pulsante Subscribe Attivare le notifiche Per sapere sempre Quando esce un nuovo video Io sono Giacomo E noi ci vediamo La prossima volta Grazie per aver guardato il video